Io per come avevamo preparato la partita, diversamente dalle altre volte, avevamo preparato difendersi 10 metri di viaggio, coscienti della forza loro, della loro velocità, ma soprattutto coscienti che eravamo la terza partita di una settimana e non la sono sentita in Italia rischiare a fare pressione altissima per tutta la partita, quindi non più, mi sembra normale che nessuno fa così e siamo davanti alla direzione concorrente principale, quindi avevamo due risultati su tre, abbiamo cercato di ottenere il massimo, non ci siamo riusciti, anche se poi nella fine delle occasioni su palla in movimento, l'occasione più grosse alla fine della partita della Gatti, sono soddisfatto per l'interpretazione della prestazione, diversa da chi ha visto sempre noi giocare, però credo che la partita è giusta per essere affrontata in questa maniera, cercando di rischiare il meno possibile, di essere poi riproducenti in fase offensiva, non è che noi abbiamo grandi velocisti a parte di Tone, quindi capiamo che non è la strada giusta, però sappiamo anche che noi ho detto prima che due partite nelle spalle tutte le settimane con la delusione, soprattutto per l'ultima partita, non potevamo rischiare assolutamente, però sono contento, abbiamo ottenuto il risultato, sono contento di un'altra cosa, ho visto un grande pubblico da amore parti, un grande segno di civiltà e di rispetto alla cosa più importante, credo che non ci è successo assolutamente niente, le squadre in campo, forse ci siamo tutte e due battagliati dall'inizio alla fine, perché non ci è successo assolutamente niente, le squadre in campo, forse ci siamo tutte e due battagliati dall'inizio alla fine, però nessun fatto di grossa portata, grande rispetto a quello che fanno i miei colleghi e rispetto sempre loro e gli altri, quindi sicuramente la sua squadra conosce meglio di me e sicuramente ha pensato di fare la cosa più giusta possibile facendo quello, io Valenti, un giocatore che in questa categoria è molto molto forte, lo terminevamo, però siamo riusciti a contenerlo bene anche nella parte finale, su palla in movimento non abbiamo concesso nemmeno un tiro questa volta, credo che sia anche. per tutti e due, Docentini e Barutti mi chiedevano continuamente, non ci teniamo una botta, Barutti, non so se avete visto la caviglia laggiù, però abbiamo tutto fino alla fine, perché continuavo a dirmi che stavano bene, se poi fosse successo qualcosa, fare la terza sostituzione mi sarebbe dispiaciuto. Chi ha detto questo? Io ho sempre detto che il campionato è aperto a qualsiasi soluzione, a qualsiasi risultato, quindi è normale che in testa ora siamo noi e a tre punti c'è Fogli Bonzi, con la Mastese è un altro campionato, ha pareggiato, quindi è a sette punti, quindi il margine è un po' più grosso, hanno meno probabilità, però i campionati finiscono all'ultima giornata, all'ultimo secondo, quindi non è molto certo, io credo che sia abbertissimo ancora a tutti e credo che tutti quanti lotteranno fino alla fine per ottenere il massimo dei risultati. Mister cos'era? No, non è successo assolutamente niente, tanto mi piace fare le furbate, avevo preparato due formazioni perché se nel caso giocasse Valenti, preferivo un giocatore un po' più rapido, lì nel mezzo, giocando lui ho trovato per Genello che dopo mezz settimana sta attraversando un bel periodo, in più ho alternato i due ragazzini perché uno ha fatto già 90 anni, erano alternati nella partita scorsa, quindi ho fatto questo campionato. Ho dato un'ottima prova e la maturazione dei giovani, a parte la classifica che abbiamo, che ci deve fare a tutti quanti, io credo che per me, alla mia età, tirare fuori qualche giovane è una delle più belle soddisfazioni che si possa avere, e i nostri giovani non erano giovani molto conosciuti, siamo partiti per l'ultima, abbiamo preso quello che abbiamo trovato, invece stiamo vedendo che questi giovani stanno rispondendo alla grande in una piazza non facile come quella maglia che portano, perché da altre parti molto più semplici per un giovane esprimersi, invece i nostri giovani tutti quanti stanno dando il loro grandissimo contributo, non hanno giocato soltanto 3-4, quest'anno hanno giocato tantissimo i nostri giovani e questa è una bella soddisfazione mia personale, perché credo che sia fondamentale da quello con i ragazzi migliori. Credo un significato importante, abbiamo dato una buona risposta, abbiamo fatto quello che avevamo preparato, che ci ha chiesto il misto, è una prestazione tutto a cuore e grinta, anche con delle buone giocate, credo. Potrei condividere, anche se credo che alla fine oggi è una partita di importanza da salvare tutti, quindi credo che sia stata una partita equilibrata e credo che forse un episodio poteva indirizzarla, una quale inattiva, una giocata di un singolo. Quello che ho detto con i miei compagni appena siamo entrati, credo che alla fine veniva anche la classifica, con 33 punti disponibili, credo che è tutto aperto e anche i risultati di oggi credo sono andato di cuore dietro, alla fine sto a fare giù la Massese, insomma i Vietti ha vinto a Ponzacco, però anche Ponzacco magari si è staccato un po' o meglio è rimasto sempre a 6 punti e quindi credo che alla fine, come ho sempre detto, non siamo solo in due per la giocata fino alla fine, credo che poi, che da queste 4-5 partite magari indicheranno le due o tre squadre che si adottano fino alla fine. Devo fare insomma, una bellissima sensazione, devo fare un grazie e complimenti ai nostri ipotesi, sapevo che era così, che non ci faceva mancare il proprio apporto e tutto, però insomma poi provare, se hai sensazioni, è sempre bello. La sensazione del Manni, il senso di oggi è un'altra squadra, 20 metri dietro fuori. Ho visto qualche, ho visto le immagini, insomma poi qualche compagno da vederla, insomma mi ha detto che i primi 20 minuti erano partiti forte, credo che oggi magari forse hanno provato la partita magari diversamente, poi diciamo che i primi 20 minuti ci siamo fatti trovare pronti anche noi, quindi magari anche la nostra partenza ha influito sul rendimento insieme. Purtroppo mi pare che Pierpo Gimozzi sia la realità, quello che darò in quasi tutte le partite, Pierpo Gimozzi ci voleva al Sena per far diventare la partita uno spettacolo, quindi dal punto di vista di pubblico è stato cert'altro uno spettacolo. dal punto di vista di quello che si è visto sul campo, pare che il pareggio è giusto, e che c'è stato almeno oggi una partita giocando alle due squadre, c'è stato abbastanza equilibrio, forse un po' troppo sul lato agonistico solo, c'è stata la battaglia che si voleva vedere, ma è mancato un po' lo spettacolo della sottoporta, lo spettacolo del quasi gol, delle azioni da gol, diciamo quello che noi avevamo abituato i nostri tifosi, che siamo sempre capaci di fare 3, 4, 5, 6 azioni da gol, questa volta devo ammettere che c'è stata una sola azione veramente pericolosa che era quasi verso la fine. Quindi da questo punto di vista qui, ripeto, il pareggio è giusto. Allora, innanzitutto devo ringraziare i 2.500 persone che erano oggi allo Stefano Lotti, perché veramente oltre fare sia i nostri tifosi, i tifosi del Sena hanno fatto veramente una coreografia eccezionale e devono essere ringraziati pubblicamente. Un pubblico correttissimo, un pubblico maturo, un pubblico che forse potrebbe meritare oltre la Serie D, però questo vedremo al fine del campionato quello che succederà. veramente, grazie, non è successo nulla, è stata veramente una grande, bella giornata di sport. Antonio, noi appoggiamo 30.000, siamo arrivati a giocare con squadre di rango nostro, e noi ancora all'Inter, per l'ultima Juventus ci è toccato, una volta al Perugia, chissà, domani forse però, abbiamo fatto anche un bel incasso, noi non ci siamo abituati a questione di rire, forse, come dicevano prima, il cassiere sarà contento di questo. Venendo la partita, secondo me, è stata l'opposto di quella di Siena con Giponsi dell'inizio, la sesta del campionato, dove allora noi, forse scusati, eravamo ancora in work in progress, perché, ripeto a tutti, o allora qualcuno se fosse dimenticato che noi abbiamo assemblato la squadra del 3-4 di settembre, perché quella storia scende di compagnia cantante. Oggi, a mio avviso, ai punti, ha vinto il Poggio Giponsi, però accettiamo questo 0-0, 0-0 tutto sommato ci può stare, rimaniamo sempre a tre punti, rimaniamo e ora il campionato si farà molto interessante e vincerà chi sbaglierà di meno, chi vincerà forse con le cosiddette piccole, con le scuole squadre, che sono una bassa classifica e poi sono piccole che hanno fuori punti, ma non piccole sotto altri aspetti. Io, invece, ai miei giocatori non c'ho il dato di troverarli assolutamente nulla, hanno fatto una grande partita, devono essere associati in blocco e poi il gol non è arrivato, se forse tassi, a metà del primo tempo, quella zuccata alpisce meglio, però così non è andata, forse. Doveva essere un pari, abbiamo detto che da vincere il migliore, forse un migliore in assoluto non c'è stato, anche se, secondo me, non ho nessuno partigiano. 51, oggi vuol si 49 Sena, però va bene così. Su questo non sono d'accordo, ma credo che lasciamo stare intanto nel calcio, non si vince ai punti, ma si vince insegnando. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta da due due parti, quindi alla fine non serve a nulla cercare di capire quanti punti in più o in meno abbiamo fatto. La realtà è che Pugimonti stasera dover fare di tutto per vincere, secondo me avrebbe perso una grande occasione per arrivare al nostro livello. Invece adesso ci sentiamo noi più forti di prima e credo che noi abbiamo fatto un grande passo avanti e quindi chiaro che, come abbiamo detto, tutti dicono che ci sono ancora 32 punti in pari, quindi figuriamoci se ci sentiamo già vincitori, ma comunque noi lo stiamo dicendo ormai da molto, non lo nascondiamo, siamo la squadra da battere, non ce l'ha da fare. Vedi Antonio, ricordi che tutte le volte che siamo andati i primi, la domenica dopo purtroppo abbiamo battuto la retta e ci siamo fermati, e allora noi metteremo la freccia alla sess'ultima, perché noi non possiamo in questo momento… Ma c'è tre anche scommesse attualmente, sai che non scommetto per natura. Ritenete che ormai sia un duello a due? No, secondo me no, secondo me ci si può riaprire il campionato con una terza incomoda e non sappiamo ancora chi. In effetti sembrava la Massese, appunto sembrava Ponzacco, sembrava Sansepolcro, ma alla fine c'è un'alternanza degli ultimi mesi che una volta l'altra, quindi secondo me uno delle tre o quattro che ci sono dietro di noi lo potrebbe fare il terzo incomoda, ma sicuramente Poggio Monzi e Siena hanno dimostrato di essere le migliori del campionato. Sì, è andata bene, ho fatto una partita come l'abbiamo interpretata, appunto sul piano della battaglia, e noi non siamo abituati a questo tipo di gioco, oggi c'è riuscito bene, siamo contenti, siamo avanti, quindi va bene sì. Mario, ti aspettavi una difesa fisica da parte del Poggio Monzi, è stata fisica? Come conosciamo il Poggio Monzi, loro giocano su questo, quindi falli, ci conoscono perché sanno dove giochiamo, quindi sono stati bravi a lasciarci poco spazio, quindi hanno messa più sulla battaglia. Noi non siamo in grado di fare la battaglia, ma oggi l'abbiamo fatta e ci portiamo a casa ancora questi tre punti avanti e si vedrà alla fine chi sarà più forte. Michel Morgia dice sempre, non voglio che il risultato condizioni la percezione della prestazione, condizioni l'autostima della squadra. Oggi il risultato fa autostima oppure si cancella tutto e si riparte comunque il lunedì? Come sempre, dopo ogni domenica finisce lì, si riparte lunedì o martedì. Noi, ripeto, oggi abbiamo fatto un bel pareggio, siamo avanti di tre punti e comunque siamo consapevoli dei nostri mezzi e arriveremo sicuramente in fondo. Facile. Ci abbiamo provato anche se poi ovviamente è una partita che ha tante difficoltà perché ovviamente la posta in palio era altissima, era enorme e sono felice sicuramente perché abbiamo visto tutto quello che c'era sugli spalti, tanti tifosi sia del Poggio Monzi che del Siena, quindi sono contento per aver giocato una partita del genere in questo periodo che forse per me era anche inaspettata, quindi devo ringraziare le ragazze sicuramente perché l'hanno fatto fino ad oggi. E poi oggi, ovvio, abbiamo provato anche se poi era difficile perché il Siena ci aspettava, ripartiva e non volevamo lasciare troppi spazi. Quindi è stata una partita che sicuramente il risultato è credo giusto, un pareggio giusto per entrambe e va bene così. Si aspettava. Ma io devo essere corretto, molto, molto leale sportivo, ovviamente giocare tre partite in una settimana non è facile per nessuno e quindi pensavo che magari nella seconda parte della partita il Siena avesse un crollo fisico, però credo sono stati bravi, ordinati, tatticamente e noi abbiamo provato a fare la nostra partita, bravi dietro, bravi in mezzo, davanti ci è mancato qualcosa, però credo che poi questo è il nostro percorso. Siamo una squadra maschia, tosta, un po' l'inglese, che fa un calcio abbastanza tattico, organizzato, fisico e poi riusciamo a trovare qualche golletto su calci da fermo, su calci d'angolo, su calci piazzati. Però insomma oggi va bene, va bene così, era troppo importante, sono felice insomma che non sia successo nulla nel campo e fuori. Perché sono diverse partite e al di là dei calci piazzati fate poco. Si, posso essere d'accordo con te in parte, io ho ragazzo tutta la settimana quindi vedo quello che fanno, quello che danno e credo che se ho fatto certe scelte le ho fatte con grande convinzione e poi c'è anche da dire che Valenti ha giocato tutto il secondo tempo, quindi lo spazio l'ha avuto. Poi se diciamo gioca uno il primo, gioca uno il secondo, no, io credo che la formazione migliore era quella perché ovviamente abbiamo abbiamo tenuto i quattro dietro che sono stati fino ad oggi nella nostra storia. In mezzo abbiamo fatto giocare i gradioni, i caciagli, i galbiati d'ossidi che sono i più importanti. Ovvio che poi i quattro under da qualche parte da rimettere e in questo momento io credo che abbiamo qualche difficoltà con altri under e quindi era giusto secondo me far giocare in pieno. Poi non scordiamo che viene dall'Arezzo c'è due quindi un giocatore che è anche un ragazzo in gamba. Ma ora andare a giudicare quello che farà Siena onestamente non lo so, non mi sembra nemmeno giusto. Io devo solo pensare a cercare di riuscire a fare qualcosa in più dalla tre quarti in avanti perché sicuramente siamo una squadra che deve migliorare quello che è la fase offensiva sicuramente. però ecco poi bisogna anche essere precisi e siamo a tre quarti in un campionato quindi dove i ragazzi davanti hanno giocato tutti e si poteva fare meglio. Quindi oggi dire ma giocatizio, giocatazio insomma non mi sembra perché lo spazio hanno avuto tutti. Sicuramente qualcosa davanti dobbiamo fare meglio. Poi quello che farà Siena io onestamente non ho la capacità di poter dire come hanno lavorato. Io penso che poi e lo penso veramente che il campionato sicuramente Siena ha un vantaggio rispetto a tutte le altre perché è una squadra importante, una città importante, un pubblico numeroso però è un campionato dove io credo che se guardiamo la classifica oggi in 5, 6, 7 punti ci sono altre scomate e vediamo quello che succederà davanti. Grazie. Grazie. Grazie.